Siamo qui con Lorenzo Sorà di Sant'Andrea. Questa partita è andata male, una brutta sconfitta. Cosa pensate di dover cambiare nel vostro schema o di dover migliorare? Centrocampo, soprattutto il centrocampo perché oggi non c'eravamo centrocampisti quindi la partita l'avevamo già persa all'inizio. È inutile parlare perché non c'è stata la partita, erano più forti, noi eravamo senza centrocampisti e non avevamo neanche una possibilità di batterli oggi. In bocca al lupo per la prossima volta. Grazie mille. Ciao.